bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi come vi avevo promesso parliamo un po di realm royal andremo a vedere in questo video ragazzi gli aggiornamenti che sono disponibili che saranno disponibili nei prossimi giorni e attenzione abbiamo già dei data miner che ci hanno portato delle fotografie di nuove cose che stanno per arrivare quindi ragazzi cominciamo subito lo sapete tutti meglio di me ragazzi ve lo ripeterò ancora qualche volta poi basta visto che sta già prendendo piede realm royal è un videogioco di battle royal si basa sull'universo di paladins gli sviluppatori sono gli stessi e i red studios e sta è stato lanciato all'inizio di giugno quindi siamo praticamente quasi i primi in italia a parlarne diciamo e a trattarlo proprio in quello che riguardano le news e c'è da dire che il team di sviluppo sta veramente dando molta molta importanza a questo piccolo capolavoro nascente che potrebbe davvero non dico arrivare ai livelli di fortnite tutti sappiamo che fortnite ci stanno lavorando ci lavorano da tantissimo ci fanno tutti gli aggiornamenti c'è un'utenza di milioni di persone quindi è ovvio che non possono essere paragonate le cose però è molto probabile che ben presto riuscirà a piazzarsi in seconda posizione per quello che riguarda i battle royal in giro per il web innanzitutto ragazzi vi do subito una notizia ufficiale quindi questa ragazzi la trovate anche dentro i comunicati ufficiali di i red studios è è stata confermata l'uscita l'uscita cio le vespe in giro io è stata confermata l'uscita dave lì 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 scusate è stata confermata l'uscita su console sia xbox one che ps4 del nostro realm royal e questa già ragazzi è una news ufficiale per quello che invece riguarda ragazzi l'update l'aggiornamento che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni si parlerà principalmente delle forge e dei chest che troviamo in giro per la mappa la prima cosa ragazzi è che nelle forge adesso per poter ottenere delle armi leggendarie serviranno 200 cocci i cocci praticamente sono quelle pietre d'oro che ci vengono fornite quando spacchiamo o un'abilità o un'arma che non ci servono quindi 200 per le leggendarie e due trofei pollo quindi vuol dire che per ottenere un'arma leggendaria dovremo killare due nemici mi viene da ridere perché io non ho tempo però ti sembra che posso lavorare così queste saranno le armi leggendarie di classe per le armi leggendarie non di classe invece serviranno solo 120 cocci e un trofeo pollo quindi mi raccomando ragazzi primo grande vien da ridere prima grande novità per questo gli scrigni ragazzi gli scrigni cominceranno ad avere una certa classe e potremmo trovare in giro per la mappa degli scrigni leggendari ovviamente ragazzi ci daranno non è detto che in uno scrigno leggendario ci sia obbligatoriamente dentro un'arma leggendaria sto piegato perché ho paura che mi vola sopra la testa però potremmo se siamo fortunati ottenere addirittura due armi di classe leggendarie ovviamente con quegli scrigni noi avremo anche la possibilità di eliminare le a di eliminare le armi leggendarie che non sono della nostra classe ultimamente ragazzi c'è un bel picco in giro per youtube e in giro per i vari siti di social per quanto riguarda royal real royal si parla di un'utenzia media giornaliera che varia dai 50 mila agli 80 mila giocatori quindi sta cominciando davvero ad entrare un po nell'interesse comune per quello che è per la sua semplicità mixata con la possibilità e di non dover craftare tutti o per spaccare craftare come i pazzi come su fortlet e della mancanza di costruzioni ovvi scusate ovviamente anche la possibilità di avere due armi e tre classi è un punto a favore per gli amanti del genere nonché la possibilità di scegliere a inizio partita una classe a propria scelta per impostare il proprio stile di gioco non sappiamo in realtà quando verrà realmente portato su console ma credo che si parli di meno di un mese se vogliono fare il botto io questo lo dico proprio da quello che sta dietro e quello che studia e lavora con tutte le notizie su come viaggiano i videogiochi su come si espandono e crescono i videogiochi quindi una un videogioco portato solo su pc ha un limite un videogioco come questo che comunque funziona con la real engine che è tranquillamente utilizzabile anche su console deve assolutamente essere portato su console nel giro di meno di quattro settimane vediamo un pochettino prima di salutarci i ragazzi quella roba lì che hanno trovato i dataminer raga perché sono state recuperate delle nuove skin che ben presto avremo disponibili non si sa se con degli obiettivi o semplicemente a pagamento ve le faccio vedere ragazzi sbadan questa la conoscete raga questa la conoscete è il draghetto che da ieri 24 giugno passa nella lobby principale in basso non è ancora disponibile ma è sicuramente la prima skin che potremmo sostituire al nostro pulcino non a caso ragazzi sono arrivati anche dei draghi sulla lobby proseguendo ragazzi se ci riusciamo questa è un'altra skin che potremmo decidere di avere al posto del pulcino il pulcino ragazzi ve lo ricordo è praticamente il momento in cui veniamo uccisi noi possiamo morire tre volte in questo gioco non morire nel senso non proprio se ci killano quindi se azzerano la nostra barra dell'armatura e della salute non moriamo ma ci trasformiamo in un pollo con una bandiera che comincia a correre per 30 secondi se in 30 secondi non ci uccidono ritorniamo ad avere tutta tutte le nostre armi e tutta la nostra salute se invece ci killano la partita è finita può succedere questo evento massimo tre volte durante una partita quindi questa è un'altra skin che potremmo scegliere al posto di quelle che abbiamo già visto avanziamo ce n'è un'altra ragazzi molto carina anche questa lo scheletro pollo ragazzi come vedete è semplicissimo da capire è lo scheletro di un polletto e passiamo ragazzi alle cavalcature sapete che c'è il cavallo noi possiamo evocare tutte le volte che vogliamo un e qui è perché qui un cavallo possiamo evocare che ci permette di andare più veloci in giro nella mappa guardate che cosa hanno trovato ragazzi track il dinosauro ragazzi ne mancano dei pezzi ovviamente perché non hanno trovato altro probabilmente era il personaggio lì che cavalcava quindi può essere giusto che sia così ragazzi al posto del cavallo potremmo cavalcare un velociraptor o di colore arancione o di colore verde beh ragazzi vespe a parte direi che ce l'abbiamo fatta a terminare anche questo video io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su scaricate anche voi real royal da steam perché è molto molto divertente noi ci vediamo in live ciao 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 ciao